Kroeger! Vieni fuori, bastardo pervertito! Opri questa porta, Kroeger! Non ho fatto niente! Che cosa vuoi da me? Faccio dei sogni in cui c'è un uomo, tutto bruciato. L'uomo nero non è morto. Non ti devi addormentare! Fa paura la sua voce, prendi in seguito la croce, apri gli occhi. Svegliati! Chris, svegliati! Svegliati! Non hai niente di cui preoccuparti. Non ti farà male, devi stare tranquilla.